Diventeremo tutti molto molto ricchi. Per realizzare il colpo del secolo, un genio criminale e la sua banda dovranno scavare un tunnel, perforare una parete d'acciaio e affrontare una dolce vecchietta. Mi ha portato dei biscottini alla cannella. Lady Killers, un esilarante commedia dei fratelli Coen. Che cosa è stato? Io non sono nemmeno sicuro di aver udito alcunché. Il premio Oscar Tom Hanks. Lady Killers, dall'11 giugno al cinema.